Uh, che carine! Ehi, vorrei un po' di privacy! Quasi pronta! Non vedo l'ora! Sto bene così! Siamo pronte! Mi sento benissimo in questo outfit! E ora facciamo un bel makeover della camera da letto! Rosa versus nero! Date un'occhiata a queste mosse! Iniziamo! Wow, bellissimo! Non vedo l'ora! Cosa? Rosa! Sono sul lato sbagliato! Mi stavo preoccupando! Mi sento meglio da questa parte! Hai visto quelle cose lì? È roba mia! Dammi qua! Puoi tenerlo! Caramelle! Uh, gnam! C'è del rosa, quindi devo prenderle io! Ce ne sono anche di nere! Lasciale mia! Le voglio! Devi togliermele dalle mani! Non intendevo letteralmente, però... Oh, queste non sono le mie caramelle! Toglietevi di torno! Prenditi le tue! Smetti di toccare le mie cose! Va bene! È ora di mettersi al lavoro! Non riesco nemmeno a guardarlo! Aspetta un attimo! Questo potrebbe farmi comodo! Ne ne! Posso usarlo, sì! Cosa sta facendo? Ehi mia! Ce l'ho anche io! Ma non so cosa farci! Oppure sì! Ah 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 ah! Per prima cosa mi serve questo hula hop! E poi questo galleggiante! Mi sembra proprio una buona idea! Ma ci ho pensato prima io! Poi mi serve il tulle! L'incastro nel galleggiante! Così si tiene! Lo faccio tutto intorno! Lo faccio anche io! E ora mi serve una pistola per colla a caldo e dello zucchero filato! Applico la colla sul galleggiante! Poi ci attacco lo zucchero filato! Voglio coprire tutta la ciambella! Io ci attacco sopra le caramelle! Sta venendo proprio carino! Molto bello! Ok il mio è praticamente pronto! Ho finito! E ora un po' di luci per un look speciale! Wow quanto mi piace! Non vedo l'ora di sedermici sotto! Mi prendi in giro! Mamma mia troppo divertente! Bisogna lavorarci un po' Leo! Ho fatto del mio meglio! Che ridere! Che ne pensi, Kissy? Oddio! Cos'è stato? Puoi fare meno rumori! Oddio! Mi sono innamorato! Guarda qua! Hai mai visto qualcosa di così bello? Brum brum! Bibi! Ah! No! Tutto qui! Non sembrava per niente male! Dammi qua! È solo uno stupido giocattolo! Mi hai lanciato una macchinina! Alcuni non sanno apprezzare le cose belle della vita! Ehi! Che acrobazia! Oh no! L'ho rotta! Aspetta! Una macchinina rosa! Non è la mia! Queste non mi servono! Wow! Come sono veloci! E sono mie! Mi è venuta un'ottima idea! Mi serve una cornice vuota! E la mia fidatissima pistola per colla a caldo! Inizio mettendo della colla sui tettini delle macchine! Poi li attacco alla cornice! Molto bello! Posso farlo anche io! Non sembra così difficile! E ho finito! Il mio originalissimo capolavoro! Devo appenderlo al muro! Wow! È perfetto! Ehi mia! Guarda un po'! Ehm... Leo! Credo tu debba guardare meglio! Di che parli? Ma... Come ho fatto a finire qui? Mi piace ma il mio è meglio! Niente più macchinine rosa! Ora posso rilassarmi! Ehi! Chi è spento la luce? Sto cercando di dormire! Non ci riesco con le luci accese! Ma a me non piace il buio! Smetti la mia! Basta! Inizio a infastidirmi! Bene! Voglio le luci spente! Io le voglio accese! Oh! Hai ripari! Incredibile! Ehm... Credo che abbiamo un problema! Un mostro spaventoso? Ah! Mi sento meglio! Anche io! Aspetta! Sei tu! Levati! Oddio! Non ci posso credere! Ti ho toccato! Ehi! Ho una lampadina! E ho un'idea geniale! E io ho un paralume! Ci viene fuori un bel cappello! Andiamo al lavoro! Mi serve la lampadina e delle penne! Userò le penne per decorare la lampadina! Divido la lampadina in sezioni! Ogni sezione sarà di un colore diverso! Troverò qualcosa di diverso! Metto questi bei disegni su questo foglio di schiuma! Uso una puntina per tracciare i disegni sul foglio! Ecco il risultato! E ora la parte più bella! Ora metto il paralume sulla carta! L'effetto non è niente male! Wow! Questa sì che è una lampada! Fa molta atmosfera! Allora prendo questa lampada dal design unico! Ci metto la lampadina! Ok! Mi sembra messa bene! E ora la accendo! Ecco proprio ciò di cui avevo bisogno! Rende la camera molto più accogliente! Metto la mia lampada proprio qui! Non è da me ma è carina, Leo! Grazie, Mia! Ora mi devo riposare un po'! Ah, ora sì! Che sonno! Ok, ora mi preparo a iniziare la mia prossima creazione! Ho un sacco di progetti! Wow, questo è un bel libro! Mia? Più complicato di quanto pensassi! Sembra un po' stretto! Mi sa che devi provare di nuovo! Almeno ho un po' di colore nel mio guardaroba! Sì, sì, vabbè! Ne ho abbastanza! Vuoi fare a botte, eh? Ehi, aspetta! Ti sta bene! Ma che succede? Che brutti! Ok, molto meglio! Mi stavo preoccupando! E ora che stai facendo? Ancora mi sento addosso coi vestiti neri! Meglio del rosa! Che cos'è? Oh, bello! Proprio ciò di cui avevo bisogno! Forse posso usare questo pongo! Faccio delle palline così! Uso tutti i colori! E ci faccio dei fiorellini! Successivamente li attaccherò a uno specchio così, a un bordo carino! Belli! E ora devo sistemarmi questo coso! Wow, riesco a vedermi anche io! Ehi, bel fusto! Non capisco cosa c'è che non va! Oh sì, che figo! Che sta facendo? Wow, quanto si piace! Stavo scherzando, dai! Certo! La la la! Oh sì! La musica mi aiuta sempre a rilassarmi! Mi metto le cuffiette! Non va bene! Ci riprovo! Perché non funziona? Che strano! Che sta facendo? Bah! Voglio solo sentire un po' di musica! Wow! Oh no! L'ho rotto! Perché proprio a me? Ssh! Non riesco a sentire la musica! Smetti di piangere, Leo! Sono troppo arrabbiato! Non ti sento! Ma la musica mi rende felice! E ora non posso ascoltarla! Che tragedia! Forse dovrei aiutarlo! Andiamo! Non ci credo, lo sto facendo! Coraggio! Puoi farcela! Oh sì! Posso usare questi fogli! Un selciato rosa! Sembra proprio di stare a casa! E non tocco il nero! Cosa vuoi? Mi dispiace per il guaio! Che dire? Grazie? Fammi vedere! Possiamo ancora fare qualcosa! Oh, mi piace come pensi! Magnifico! Prendo un altro cd! Poi ci metto sopra della carta resistente al calore! Poi mi serve un ferro da stiro! L'ho preso in prestito dalla mamma! Per ammorbidire il cd! Ma farà anche in modo che non si rovini! Stiro lungo il centro! Ok, dovrebbe andare! E ora lo piego con cura! Una metà deve essere verticale! Quindi posso rimuovere la carta resistente al calore! E ora ho un bellissimo scaffale! In cui tenere tutte le mie cose! Musica per le mie orecchie! Questo è per te! Te lo meriti! Oh, sei la migliore! Lo metterò qui! Torno dalla mia parte! E ora ci metto sopra questa! Molto carino! Wow, la differenza si vede! La camera ha un aspetto fantastico! La mia camera è la più bella, ovviamente! Certo, come vuoi tu! La mia camera è super accogliente! E la mia spacca! E la macchina rosa! Non ne parliamo meglio! Ok, vediamo che cosa abbiamo qui! Io ho l'occorrente per i pancake! E anche io! E penso di sapere come renderli migliori! Scuotiamo per bene! E' fatto! Ma guarda che bei pancake! Così soffici! E' rosa! E' ora di mangiare! Niente batte la panna montata su pancake! Oh, ma come sono buoni! E adesso tocca a me! Li scuoterò anch'io! Non vedo l'ora di mangiarli! Ma che diavolo! Forse devo scuotere ancora! Questa volta lo farò con più forza! Oh no! Guarda che pasticcio! Hai decisamente sbagliato qualcosa! Ok! Devo solo scuotere più forte! Forse scuotere non basta! Mi servono i rinforzi! Forza martello! Fammi dei pancake! Ehi! Mi aiuti a scuotere un altro po'? Bene! Questa volta saranno perfetti! Sì! Ha funzionato! Pancake! Dei deliziosi pancake neri! Guarda che bella pila di pancake! E guarda cos'ho! Ne vuoi un po'? Ecco! Lo sciroppo rosa sarà buonissimo! Ne sono sicuro! Ne aggiungerò un po' anche ai miei! Ma non troppo! Il tappo! Oh no! I miei pancake! Ehi Nick! Mi dispiace! Però guarda qui! Risuccherò tutto quello sciroppo! Accidenti! Funziona! Ehi! I miei pancake! Sono spariti tutti! Oh no! È tutta colpa mia! Mi dispiace! Ormai è fatta! Ok! Vediamo il sushi! Sì! Mi piace il sushi! Io ho del sushi nero e sembra delizioso! Dunque! Per prima cosa mi servono le bacchette! Ho una buona presa! Sono pronto a mangiare! Ups! Mi è cascato! Ci riprovo! Eccoci! Eh già! Sono un professionista delle bacchette! Cambierò metodo! Nessun problema! Fai piano! Fai piano! Oh no! Anche quello è cascato a terra! Lo infilzerò alla vecchia maniera! Il mio sushi! Voglio solo mangiare il sushi! Ok! Sono calmo! Me ne rimane solo uno! Dai Nick! Ce la puoi fare! Credo in te! Ce la posso fare! Ci sono! Ora deve solo arrivare alla bocca! No! Ti ho preso sushi! Sì! L'hai preso! Grande Nick! Ora tocca a me! Utilizzerò un metodo diverso! Aprirò questo tovagliolo di carta e lo arrotolerò! E poi lo arrotolerò di nuovo! Adesso basta metterlo tra le bacchette in questo modo! E per finire ci metto un bel elattico! Bello stretto! Fatto! E via col sushi! Ah, la salsa! Tanto vale provarla! E buon appetito! Wow! È davvero buono! Assaggia! Piano! Piano! Ops! Oh! Scusami tanto! Oh, guarda che bella fontana di cioccolato! Questo cioccolato fuso sembra buonissimo! Ci è andata proprio bene questa volta! Vediamo cosa c'è sotto! Cosa? Ma è carne! Credo che sia pastrami! Io ho i mirtilli! Stanno benissimo col cioccolato! È ora di usare la fontanella di cioccolato! Che spettacolo! Avevo ragione! La cioccolata è veramente buona! Beh, potrei assaggiarne almeno uno! Ehi! No! Non metterlo là dentro! Non c'entra proprio niente con la fontanella! È così ingiusto! Ci deve essere un modo! Ok, proviamo così! Ma sul serio? Pensa che non la veda? Ok! Dovrò cambiare tattica! Passerò da dietro! Eh no! Non va bene nemmeno così! È distratto! È la mia occasione! Pastrami, immergiti nella cioccolata! Vediamo di che cosa sta! Oh sì! Questa cioccolata è così buona! L'ho preso! Ho salvato il mirtillo! Sai cosa ci vuole adesso? Altra carne! Ma cosa stai facendo? No! Ecco che arriva la carne! Sì! Guarda quella carne! Quella cioccolata! Ha inceppato la fontanella con la carne! Adesso esploderà! Oddio! C'è cioccolata ovunque! Cioccolata e carne! Ecco! Ti aiuto io! Non pensavo che la carne potesse tradirmi così! Quando dobbiamo trasformare la nostra camera l'importante è avere ispirazione al di là dei colori che usiamo! Quale camera preferisci? Faccelo sapere nei commenti qui sotto! Ricordati di condividere questo video con i tuoi amici e non dimenticare di iscriverti al nostro canale